No, niente ma, niente fucini, però una volta mi sono fatta delle foto con delle pistole finte Ah, ce la puoi far vedere? Si può, hanno il tappino giallo per dire che sono fake Ma cosa sparavano? Sono andata allo spring break, sai che cos'è? Eh, la pausa di primavera? Sì, è tipo festa dove si vesteggia e ci sono delle serate e bisogna vestirsi a tema E io mi sono vestita da Kim Impossible Ah E quindi, cioè, so che le pistole non c'entrava niente Però le ho messe comunque perché sembrava molto... Mamma mia, avevo brutti ricordi quei costumi Io in seconda superiore, al carnevale secondo superiore, mi sono vestito da salume Ti prego, hai una foto, perché? Cioè, com'hai fatto a vestirti così? Eh, guarda La storia è molto lunga Però impersonificavo perché c'era la... Vabbè, la storia è molto lunga Però diciamo che era abbastanza comica come cosa, devo dire Purtroppo, purtroppo Oh, perfect timing, cosa? C'è stato un timing assurdo Nikki Guarda Dov'è la pistola? Qua ero pieno di pistole Guardavo anche... Ciao Non si vede Oh, Nikki, mi sa che abbiamo fatto un perfect timing incredibile Ma cosa vuol dire? Vi è che è successo qualcosa di incredibilmente coincidere Oh, no, no Per un secondo Sperai che mi impegno Oh, eccola Che figa Io non vorrei dire ma Non so se no Ti sembra quasi che io abbia la tartaruga Sai perché? Mi sono messa là con Il fondotinta Oh, poi mi sono fatta la tartaruga con i trucchi E sono andata a ballare così Grazie a tutti aspetta e aspetta aspetta Even Aspetta 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 Grazie per la visione!